Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico, verso Bologna, 7 km di coda per un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi pesanti al km 267. Il raccordo sia in Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 73 Senese e Aretina in direzione Sansepolcro, chiuso il tratto dal km 150 al 163. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Popiglio fino alle 14. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del km 26 nel comune di Figline e Incisa. Borsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!